Monta la protesta in Consiglio regionale dove questa mattina una nutrita delegazione di docenti e genitori della Schweizer di Termoli si è riunita per capire cosa si deciderà in merito al dimensionamento scolastico che potrebbe portare alla soppressione dell'istituto. La soppressione di una istituzione scolastica avrà ricadute sul territorio, sulla cultura e sul tessuto sociale di Termoli. Secondo noi non è giusto che venga attaccata la scuola in generale, non è giusto che una città come Termoli che vanta e un fiore all'occhiello quello di avere quattro comprensivi funzionanti con dei numeri consistenti in quartieri diversi con una programmazione diversa dove appunto le famiglie possono scegliere e decidere per vicinanza, per appunto la programmazione che è magari diversificata, può interessare di più le lingue più che attosto che la musica. Quindi comunque ecco perché chiudere un comprensivo? Poi chiuderlo in realtà lo vogliono smembrare. Non ce l'aspettavamo anche se devo dire sono almeno due o tre anni che si parla di questo dimensionamento, però secondo me prima di farlo poi almeno bisognava chiamare i dirigenti, non lo so, i consigli d'istituto, riunirsi. Se si è arrivati a persone che manifestano qui in Consiglio regionale la responsabilità è di chi non ha in qualche modo attivato quelle che erano le audizioni, cioè il percorso che normalmente si prevede in questo caso. Ovviamente si demandano le province ma la fase di ascolto si deve fare anche qui in regione, questo non è avvenuto e chiaramente poi questi sono i risultati. Abbiamo una contrapposizione tra l'altro anche brutta, una sorta di tifoserie tra parti del territorio quando la regione è unica, quindi è chiaro che insomma bisognerebbe tendere non all'interesse di bottega, quindi del singolo, ma a una visione complessiva. Io sono convinto che noi dobbiamo anche nell'ambito scolastico pretendere maggiore attenzione per la nostra specifica realtà e non possiamo utilizzare piccole deroghe che ci vengono così concesse, dobbiamo chiedere che ci sia il rispetto della norma finanziaria che esiste come legge che prevede per le piccole regioni alcuni interventi correttivi. Questi interventi correttivi sono proprio quelli che potrebbero eliminare il discorso dei tagli.